Uno degli snodi fondamentali della rete sentinella nazionale per rilevare precocemente la presenza del virus sul territorio così da poter arginare la sua possibile propagazione è così che viene definita la provincia nissena nel comunicato di Caltacqua in merito al coinvolgimento del gestore del servizio idrico nel progetto SARI sorveglianza ambientale reflu in Italia dell'istituto superiore di sanità insieme alla conferenza delle regioni delle province autonome realizzata a partire dall'estate del 2020 un'iniziativa che coinvolge anche il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, le aziende sanitarie, l'istituto zooprofilattico sperimentale università, centri di ricerca e tramite Utilitalia numerosi gestori del servizio idrico integrato. Progetto che punta alla sorveglianza epidemiologica di SARS-CoV-2 l'obiettivo è quello di monitorare le acque reflu urbane per avere informazioni sulla circolazione del virus nella fase epidemica ma anche per individuare precocemente eventuali focolai nel periodo post pandemico. Tra i gestori che hanno svolto ruolo attivo c'è anche Caltacqua che ha inviato ai laboratori dell'Università di Palermo i cui ricercatori si occupano del coordinamento tecnico scientifico della rete SAR in Sicilia individuato dalla regione i campioni in ingresso prima ogni 15 giorni e poi ogni settimana prelevati dai depuratori di contrada cammarella a Caltanissette e di contrada macchitella a di contrada macchitella a Caltanissette e di contrada macchitella a Caltanissette e di